Siamo rientrati in studio per parlare di Inter. Fede, torno da te perché la vittoria di ieri è stata una vittoria importante. Il nostro titolo parla di una qualificazione doppia addirittura per l'Inter. Sì, sì, perché è qualificazione agli ottavi di Champions, anche se ancora non si sa se è con il primo o il secondo posto, perché la classifica vede la Real Sociedad con gli stessi punti, quindi poi c'è da decidere ancora quello. Però intanto gli ottavi sono al sicuro. E poi, per effetto di questa qualificazione, l'Inter è anche ufficialmente qualificata al Mondiale per Club. Il nuovo torneo che partirà nel 2025, si giocherà negli Stati Uniti, è un torneo di cui ancora si parla poco, ma quando ci si avvicinerà se ne parlerà tantissimo, perché banalmente ha un monte premi spaventoso. Solo per partecipare, oggi facevamo dei calcoli, il monte premi totale è di 2 miliardi e mezzo di euro, la quota per la partecipazione è di 50 milioni, la squadra che vince il Mondiale ne prende altri 100. Cioè, praticamente, vincere il Mondiale per Club è più che vincere la Champions. Tutti gli altri 2 miliardi e... Eh, sai che guarda, l'esperto è Francesco, ti dico la verità, perché lui l'ha seguita... 2 miliardi e mezzo tra diritti e compagnia... Eh, ci sono i sacchetti aperti che perdono i soldi. Eh, non lo so, non lo so, non lo so. Perché per partecipare 50 è vincere 100, 2 miliardi e mezzo del mondo. La cosa che andremo a capire poi è come incastrare, mi sembra... Sarà un macello, eh. È come incastrare, praticamente, è come la fase finale di un europeo o di un mondiale, no? No, è un mondiale. No, no, dico... Giugno e luglio. È come se fosse una nazionale che fa... Giugno e luglio ogni 4 anni. Ci sono 12 squadre europee, poi ci sono squadre anche degli altri continenti, è un mondiale a tutti gli effetti. È un mondiale che ovviamente poi ha dei criteri particolari, infatti qui poi va spiegato, perché in questo momento ci sono solo due squadre per nazione che possono partecipare, più le quattro vincitrici della Champions dal 2021 al 2024, quindi quelle sono sicure. Per esempio, tanto per capirci, siccome dal 2021 al 2024 hanno vinto la Champions, il Chelsea e il City, i posti per le inglesi sono finiti. Non conta solo il ranking, il Liverpool potrebbe fare anche tutti i punti che vuole, ma non ci può andare più. L'unica eccezione è se un inglese quest'anno vince la Champions, Newcastle o Arsenal o United. Da allora ci va anche una terza, quindi è abbastanza chiuso come sistema. Le italiane in questo momento, l'Inter è l'unica sicura di andarci, il secondo posto è della Juve, ma siccome la Juve quest'anno non fa le coppe, tra l'altro conta solo la Champions, Europa League e Conference non spostano nulla. La Juve quest'anno non fa la Champions e quindi Milano e Napoli hanno la possibilità di superarla. Se Milano e Napoli escono tutte e due al girone non la superano, quindi la Juve rimane lì. Per cui la Juve è interessata anche a... A dicembre sembra che poi chiariranno anche la questione di come. Sì, perché ci sono i due ranking, il ranking UEFA e il ranking FIFA. In questo momento vale quello UEFA, se poi dovessero prendere in considerazione il ranking FIFA... La Juve ha più spazio. Andrebbero rifatti tutti i calcoli, quindi sarebbe beneficio della Juve. Scusa, quante squadre sono abbiamo detto? 32. Ci sono dei soldi che non tornano. Ne ha fatta di strada. 30 per 50 milioni di euro è un e mezzo. E gli altri 800 mila euro dove sono fatti? Gli organizzatori, se no cosa li organizzano a fare? Gli organizzatori e poi ai premi per le squadre. Per organizzare un torno 800 milioni sono presi. Ho capito, però ai premi per le squadre, la finalista, la semifinalista... Come la Champions, eh? Colazione, pranzo... Chi vince che prende circa 100 milioni, poi ce ne saranno 70 per la seconda classificata, ce ne saranno 40 per le due semifinaliste... E gli altri 500 milioni? Ho capito, ma se hai ragione degli ottavi in avanti, Claudio, cioè... Eh, ho capito, non è che avanza 50 mila euro, guarda mezzo mila euro. La verità, la verità... Ci saranno anche dei premi partita, come c'è la Champions. Come la Champions, sì. Ci saranno i premi per chi fa il calendario. E si gioca a luglio. A giugno e luglio. A giugno e luglio, sì. E si gioca ogni quattro anni, come il mondiale è vero. Il direttore, eh? Il direttore, ne ha fatta distrarre Infantino, eh? Eh? Se lo ricorda lei? Eh, ma lui ride, ma secondo me, scusami, non si ricorda il direttore che io andai a fare l'esame per diventare agente, e vediamo se si ricorda il direttore, se lo ricorda, eh? E c'erano gli esaminatori che uno si chiamava Normanno e l'altro si chiamava Infantino. E io chiamai il direttore e gli dissi, direttore, gli dica di farmi delle domande semplici. Tanto non è che tu ti hai fatto raccomandare. E che tu ti hai prescrizione, vai. Beh, prescrizione, che vuol dire? Tanto comunque non me le hanno fatte semplici uguali. Però la cosa un po' fonda. La cosa un po' fonda, direttore? Ma Luciano, tu hai chiamato, hai chiamato gli esaminatori? Secondo me non ha detto sì, sì, ma non ha chiamato. No, dici la verità. Adesso, settimana scorsa ci hai svegliato che tu eri interista, che ci hai dato questa notizia clamorosa, dichiarando che eri interista. Adesso vogliamo dire la verità. No, non era interista, aveva già firmato per l'Inter, che è diverso. No, 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 da ragazzino, da ragazzino. Ah, da ragazzino. Da ragazzino era interista, ci ha detto Luciano. Adesso ci dici la verità, ma tu gli esaminatori per il Brambale li hai chiamati o hai fatto e richiede a mercante. Ma non c'hava bisogno, Brambale. Secondo me li ha chiamati dicendo... Secondo me li ha chiamati dicendo... Bellissima questa risposta, grande! No, Max, li ha chiamati dicendo fategli le più difficili. Francesco, scusa. No, però, volevo dire una cosa. Stava intervenendo Luciano, dimmi, Luciano. Quando si valutano le persone, praticamente io ho avuto Brambati da giocatore, quindi so perfettamente il modo di ragionare e so perfettamente come poteva andare in campo e addirittura dare coraggio a tutti quanti, perché lui come spirito ne ha sempre avuto e capisce il calcio, perché vedi, quando un giocatore tatticamente sa dove mettersi, sa praticamente anche spostare un giocatore che sta male durante la partita nella marcature, è quello che è un giocatore che ha capito come si gioca a calcio e queste cose qui le può mettere anche in evidenza, praticamente quando non gioca più, e Brambati, l'ho sentito anche parlare, praticamente adesso, ha capito come si deve giocare, come si deve stare in campo e soprattutto anche il complesso e la complessità di una società di calcio. Quando mi dice quello che va detto e che l'ho anche ripetuto io, significa che ha capito che in una società di calcio servono poche persone ai posti giusti che sappiano fare il loro mestiere e non c'è bisogno poi di consulenze se ci sono queste persone, se non ci sono queste persone invece c'è bisogno di consulenze e vengono fuori i problemi di tutte le razze, perché poi ci sono gli antagonismi tra uno che dice una cosa e uno che dice un'altra e quindi il problema di fondo, andate a sommare tutte queste cose, mi portano a capire che Brambati sa perfettamente come è fatto il calcio, evidentemente l'esperienza fatta dal giocatore lo porta a parlare di cose importanti e necessarie per il calcio quando fa l'opinionista. Stai dicendo Ricci? No, la cosa per tornare al discorso folle che diceva prima Massimo sulle partite, questo mondiale per club che hanno inventato per fare un po' di soldi sostanzialmente, arriva tra l'altro alla fine del primo anno in cui la Champions avrà la riforma, cioè la Champions dall'anno prossimo avrà tutta una ristrutturazione, ci saranno otto partite sicure per le squadre che ci parteciperanno, più eventuali ottavi, quarti e semifinali, quindi arriveremo a maggio del 2025, cioè ad agosto 2025 che i giocatori hanno altro che 60 partite per chi parteciperà al mondiale, quindi è veramente un problema questo, cioè tu avrai un calendario ancora più intesato perché il turno adesso, i gironi sono sei partite e dopo diventano otto, quindi ci sono due partite in più da incastrare penso tra Natale, tra Santo Stefano e Natale. Credo siano anche più di due, sono otto sicure, poi ci sono le eliminazioni dirette, sono otto sicure, perché sono quattro gironi da nove e non si scontrano. Non ci sono quattro gironi, non è fatta gironi, è un unico girone, ma le fasce sono quattro fasce da nove e una squadra fa otto partite con avversarie definite dal sorteggio. Luciano dicevi? Sì no, per concludere, soprattutto sul fatto dei calendari eccetera, vi devo dire una cosa che è notoria e che conoscono tutti, sono le società di calcio che vogliono praticamente portare avanti più partite possibili per prendere più diritti, quindi quello che dice per esempio Sarli va in contrasto con quello che pensano Tito, anche perché è vero che il calendario può essere più duro, però in certi momenti, però le società di calcio se praticamente mancano delle partite prendono meno diritti e a quel punto lì praticamente la pensano, è esattamente al contrario di un allenatore, per cui se è un po' il gatto che si borde la coda, in poche parole il problema di fondo, più diritti, più soldi, è quello che condiziona la volontà delle società di calcio a prendere più denaro e quindi anche a fare tante partite, probabilmente ci sarà da modificare magari anziché 25 giocatori qualcuno a più, su questo non c'è dubbio, però la sostanza qual è? Sono le società di calcio che vogliono giocare per prendere più diritti sportivi e voi sapete, voi avete già capito per quello che è successo quest'anno che c'è già difficoltà perché il campo non dà l'immagine praticamente di un calcio eccezionale e quelli che facevano la lotta per prendere diritti televisivi adesso si alleano tra loro per pagare meno diritti televisivi, quindi ci sono delle cose che vanno in contrasto tra chi fa in campo, io parlo degli allenatori, e tra chi prendere tutti i fatti di riservi. Prendiamoci due minuti, poi parliamo dell'Inter, andiamo ad ascoltare Simone Inzaghi ieri dopo la vittoria contro il Salzburg, facciamo anche un po' il punto dell'Inter, grande protagonista perché si è qualificata non solo agli ottavi di Champions ma anche al Mondiale 2025, pensiamo però per ora agli ottavi di Champions, una soddisfazione per mister Inzaghi, ascoltiamo. Fare dei nomi in una serata dove l'Inter si qualifica, penso che è dal 2006 che non si qualificasse con due giornate in anticipo, era dal 2010 che non si qualificava agli ottavi, questo è il terzo anno consecutivo, ci fa enormemente piacere poi per quello che è l'Inter, chiaramente è il migliore inizio dei miei tre, però lo dirà il tempo se questa Inter è migliore, chiaramente abbiamo fatto 15 partite, 11 di campionato e 4 di Champions, molto molto importanti ma sappiamo che ci sarà da soffrire tutti insieme, giocando così tanto qualche giocatore lo si lascia per strada, speriamo per poco tempo come è successo per Arnautovic che adesso è rientrato, per Pavard, speriamo di recuperare Pestro Quadrado perché in questo momento stasera senza Quadrado e senza Pavard con Danfris che era troppo rischioso farlo giocare avevamo grandi limitazioni sul versante destro. Ecco Riccardo, lui la fa sempre passare come una conquista epica, ora adesso girone alla mano, non era un'impresa qualificarsi, mettiamola così, poi bravissimo a farlo con due turni in anticipo per carità, ma in un contesto in cui il Benfica sportivamente si suicida? No no, tutto giusto. Insomma, diciamo la strada era abbastanza... Va anche detto che, ma Massimo su questo lo sa, ai tempi di Conte con gironi più facili siamo andati a casa, quindi lui rivendica anche un attimino un processo di costruzione di una squadra che arriva a 25 punti dalla prima, scusami, e quando tu ti siedi invece su una panchina dove l'anno prima sono diventati campioni d'Italia, è un po' diverso. Ma io non volevo fare il paragone, sto dicendo. E no, hai fatto, non volevi farlo, hai fatto. L'ho fatto però con Conte... Se no se paragoni Conte in Zaghi io mi alzo e vado via, te lo giuro, mi levo il microfono e vado via. No, però, sto dicendo che... No, non è paragonabile, mi spiace, può aver fatto la finale, quell'altro invece usciva, ma questo ha inanellato, serie di scudenti, ha vinto in Premier League, ha vinto la FA Cup. Io parlo di Inter e di Gironi di Champions, tu sai che io sono stato uno che fa nel fatto via Conte. Sì, però non si possono, ma non si possono fare... Ho capito, ma lui mi ha fatto... Io sono arrivato là, non arrivavano da 2000 a 2000. No, Massimo, perdonami. Ragazzi, è come se ti metti a paragonarti con Murienio. No, oggi, perdonami, Francesco mi ha fatto una domanda che fa sempre un discorso ritroso, ma hai detto, è un po' una rivendicazione di quando c'erano altri allenatori che con Gironi più facili non passavano Gironi, ok? Sì, però nel frattempo... Nel frattempo tu sei arrivato in semifinali di Champions. Però è opinabile dire che Conte avesse un Gironi più facile, perché il primo anno aveva Borussia Dortmund e Barcellona e il secondo anno aveva Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. Però... Ho capito, ma non entra nella testa di Inzaghi, io sto cercando di... No, no, però tu hai detto Gironi più facili. Beh, sì, più facili rispetto ad esempio a quello che aveva l'anno scorso l'Inter con Barcellona. L'anno scorso, sì. Però in generale, dico, magari a livello di comunicare... Sì, ma la costruzione di una squadra, scusa. Ma lo so, ragazzi. Però lui adesso sta facendo un percorso, è vero che è monico. No, no, certo, ma infatti io non sono civile del percorso. Io sto dicendo che per fare questo percorso, secondo me, devi crescere anche nella comunicazione. È vero, questo sì. E per me, se tu ti presenti già con il cosino scritto, ecco scritto nel 2006, nel 2010, te li sei preparati prima, secondo me dovresti, scusami, non imparare da me, neanche da te, neanche da lui. Dovrebbe imparare da Ancelotti, da questa gente che fa comunicazione da una vita e che nel 2003 vinceva la Champions e sono passati vent'anni. Ed è ancora lì per vincere la Champions. Questo sicuramente ci sono... Io se devo prendere spunto o imparare da qualcuno, prendo Carlo Ancelotti, per esempio. Per esempio, ho detto uno, poi posso prendere anche altri. No, no, ma per carità, puoi avere ragione, però poi uno guarda il tifoso, comunque si guarda l'aspetto sportivo e non si può negare. L'aspetto sportivo è che, ti dico la verità, che Marotta ha sempre messo a disposizione dei propri allenatori squadre per vincere lo Scudetto, soprattutto negli ultimi anni, e l'unico che l'ha vinto è stato Antonio Conte. Questa è la verità, perché Marotta ha fatto sempre delle squadre molto competitive e sempre tra le prime, cioè se tu andavi a analizzare gli organici, dicevi questa è una squadra che può vincere il Scudetto. Alla fine ha vinto solo Conte. Però io non sto dicendo che... Poi lo vincerà quest'anno, eh. Per l'amore di Dio. Io non sto dicendo che... Tu lo sai come la penso su Conte. No, no, ma non è solo Conte. Io non sto dicendo che Inzaghi... Io ho detto Conte perché Marotta, per me, ha messo a disposizione della Juve e quindi di Allegri e dello stesso Conte prima squadre per vincere e hanno vinto, perché hanno vinto con Marotta la Juve, no? Sì, sì, sì. Hanno vinto sette Scudetti consecuti. Però Conte è un allenatore che vince e sa come gestire il rapporto mercato-società, ok? Inzaghi su questa cosa va dato un addito che ogni anno ha perso dei pezzi. Questo bisogna dargli... Cioè, bisogna dire che in effetti... Ma li ha presi? Gli ha persi e poi li prendeva. No, quest'anno... No, però quest'anno, per esempio, stiamo tutti dicendo che l'Inter si è indebolita rispetto all'anno scorso a livello di numeri. Sì, è nettamente più forte. No, ha perso. È nettamente più forte. È nettamente più forte? Non lo so. Ma come non lo so? Fino aiutati. Hai l'attacco più forte, l'attacco più forte del campionato. Però l'attacco a livello di numeri non è più forte dell'anno scorso. Sì, sette punti. Ma lascia stare... Ma come sta accontando? Tu perdi Lukaku e Dzeko? Ma cosa dici? Tu perdi Lukaku e Dzeko? E sette punti in più, sei in testa della classifica. Ho capito, ma parla di gol, parla di numeri. Parliamo di gol, 27 gol segnati. Vabbè, Lukaku... Se l'inter non veniva fuori con la... Ma Turam l'ha voluto Marotta. Sì, però... Turam è azzeccato da Marotta. Sì, ma io parlo di attacco. Fino a ieri mi avete detto che l'Inter davanti è più debole, perché non ha i numeri dell'anno scorso. Ma perché non ha i numeri che hai segnato? Hai Dzeko e Lukaku non puoi paragonare... Traducili in fatti pratici. In fatti pratici che... Hai 27 gol, hai l'attacco più forte del campionato. Però Lautaro sta facendo qualcosa di straordinario. Perché i gol di Lukaku li sta facendo tutti in Lautaro. Ma Turam ne ha fatti 3 o 4. Sei d'accordo con me che Lukaku e Dzeko non sono Arnauto vice Sanchez? No, sono d'accordo. Quindi qualcosa davanti ha perso. Ma infatti poi non è detto che poi una squadra che vince lo scudetto era più forte. Secondo me, secondo me l'anno scorso tu dovevi vincere lo scudetto. Secondo me due anni fa dovevi vincere lo scudetto. Guarda a caso, me lo stai dicendo tu adesso perché te la giro la cosa, me lo stai dicendo tu adesso che l'anno scorso era più forte di quest'anno? Eppure è vanta terza. Me lo stai dicendo tu adesso che due anni fa era più forte di quest'anno? E allora doveva vincere lo scudetto. E allora due anni non ha vinto lo scudetto. Per me sono due anni buttati tra virgolette via da quel punto di vista, cioè del campionato. Poi dopo che hai vinto la Coppa Italia, che hai vinto questo, che hai vinto quell'altro, va bene, per l'amor di Dio. Però la competizione importante è lo scudetto. Vinto la Coppa Italia la Supercoppa? Vabbè dai. Parliamone. Perché? Perché? Beh, se non vi ricordate come ha vinto la Coppa Italia la Supercoppa contro chi e come. Supercoppa col Milan 3 a 0 non c'è stata partita. Eh? 3 a 0 sul Milan c'è stata partita? No, no, io sto parlando di quelle che hai vinto con noi, dai. Però, perdonami. Su. Voi avete passato, io ho passato vent'anni della mia vita a sentirmi dire, eh ma piangete sempre per gli arbitri, la squadra più forte vince. Adesso sembra tutto ribaltato al contrario, dove al minimo, il minimo episodio più forte vince. Eh? Chi ha mai detto la squadra più forte vince? No. Chi l'ha mai detto? Tutti, tutti. Quando, quando l'interista, quando l'interista faceva il piangino, non prendiamoci in giro, quando l'interista faceva il piangino, detto da altri, diceva la Juve più forte vince, non ti devi attaccare agli arbitri. Questo è il concetto che è passato. Chi ha detto mai che la squadra più forte vince? No, no, io parlavo di Inter. Non è detto che la squadra più forte vince. Non ho detto che la Juve più forte dell'Inter vince. Ma infatti se non avesse vinto in quegli anni, e anzi ti dirò una cosa, e il direttore lo sa benissimo, che Paratici va in giro dicendo che con quegli attaccanti che ha messo a disposizione di Allegri, e cioè vale a dire Ronaldo, Tevez, Iguain, scusami, finisco, Mandzukic, Di Bala, eccetera, eccetera, eccetera. Allegri non solo doveva andare due volte in finale, doveva vincere almeno due Champions League con quegli attaccanti. Quindi in quella Juve c'è da imputare quello che tu alla Champions non l'hai portata a casa con quella Juve. Certo, però rispondevo a Claudio che diceva, ti ricordati come hai vinto quelle... Luciano, l'Inter è la squadra da battere, quella che secondo te è la favorita per lo Scudetto? Ma io non capisco il discorso che sia ridotto. Anche perché il problema di fondo, voi avete visto come gioca Turan, Turan fa gol importanti e Turan serve pure l'altro compagno d'attacco che è Lautaro per fare dei gol. Quindi poi dopo ci sono delle riserve, può darsi pure che nelle riserve qualche cosa possa mancare, ma quelli che vanno in campo sono sicuramente i più forti. Poi considerare se l'Inter ha il capo cannoniere del campionato con dodici gol, Lautaro, se ha la difesa più forte, se ha l'attacco più forte, ma di che cosa parliamo? Allora, è giusto dire che potrebbe anche in passato non ha vinto dei campionati, per esempio se l'anno scorso vinceva a Bologna, aveva vinto il campionato, è colpa dell'Inter, è colpa magari di chi l'ha mandato in campo in una certa maniera, attenzione, è inutile stare lì a menarla tanto su quello che è stato o quello che sarà. Il problema di fondo è che quando parlate di allenatori è meglio distinguere tra Conte e Inzaghi. Io Inzaghi lo ritengo un allenatore che può venire fuori sicuramente, ma adesso è avvantaggiato da una società molto seria, dove Peppe Marotta e Piero Ausilio stanno costantemente alle sue calcane e cercano di dargli una mano in tutto e per tutto. Conte è un motivatore invece che è praticamente partito da solo, magari certe volte ha un carattere bizzarro, ma la sostanza qual è? È che è un vincente, quindi fare dei paragoni mi sembra improprio su questo discorso qui. Dire invece che l'Inter è in questo momento la squadra più forte, più regolare, io credo, e non solo, è una stupidaggine dire che si è rindebolita, perché chi dice che si è rindebolita non conosce le qualità di Turan e non l'ha seguito nel Borussia Mönch, sembra anche come magari l'ha seguito qualcun altro. Io vi dico anche che Turan doveva essere dell'Inter già l'anno passato, poi sono successe delle cose praticamente che non hanno portato e quest'anno è arrivato Turan. Tanto una dimostrazione che chi l'ha preso ha capito che c'è praticamente un modo di giocare tra quelli che soprattutto sono avanti, prima di andare a prendersi il pallone, portarselo avanti, contrastare l'avversario e poi tirare anche il porto e fare gol, questo è Turan. Questo assolutamente sì. Perdiamoci due minuti, diamo la linea alla regia, rientro, diamo il finale dell'Atalanta, poi è già finale, Fede. Finita 1-0 decide quindi il gol di Jim City, così come è finita la partita di Lisbona, lo Sporting ha battuto il Racco 2-1, Atalanta che resta prima nel gruppo con 10 punti, lo Sporting è dietro a 7, quindi ci sono 3 punti di distanza e la vittoria nella partita di Lisbona chiaramente serve fare un ultimo sforzo, cioè almeno un punto contro lo Sporting a Bergamo e poi a quel punto l'Atalanta. La qualificazione c'è? Sì, ho ragione, in chiave primo posto perché diciamo che se arrivi secondo non sei proprio qualificato, devi fare il play-off, però sì, comunque in ogni caso il play-off almeno quello è sicuro. Beh, intanto se arrivi primo, ti eviti un rischio, perché secondo comunque vai a pescare la terza che scende alla Champions League, insomma, questo momento è la prossima, la prossima dovrebbe essere Atalanta Sporting. Ah, in casa con lo Sporting, con due risultati su tre, potenzialmente, quindi tutto sommato potrebbe essere fattibile. Va bene, diamo due minuti nella legia, a rientro, oltre a collegarci, vediamo se ci riusciamo con Bergamo perché insomma il maltempo potrebbe creare qualche problema per farci raccontare un po' questa gara dell'Atalanta. parliamo un po' di Juventus, perché ci sono diverse cose da dire anche a proposito dei bianconeri. Due minuti, siamo di Bergamo, parlavamo della Juventus, il titolo infatti è già fuori, la Juve che sogna già lo sgambetto all'Inter, caro Zuliani, hai voglia di questo Juve-Inter dopo la sosta? Ma sabato c'è Juve-Cagliari. Sì, quindi dobbiamo concentrarci partita per partita. No, no, non fare così, perché la Juventus quest'anno quando ci ha lasciato le penne amaramente, è stato in casa col Bologna, la Reggio Emilia col Sassuolo. Il nostro amico Federico Bertone ci fa vedere il ruolino di marcia della Juve nelle ultime sei, è pazzesco quello che, quanto ha portato a casa la Juve nelle ultime sei con così pochi gol. Andiamolo a vedere perché pochi gol segnati, pochissimi subiti, nel senso che sono zero quelli subiti, quindi zero gol subiti, sei gol fatti in sei partite, poi in realtà c'è stato uno zero a zero quello di Bergamo, ma contro il Toro ne ha fatti due. Quindi sì, è squadra veramente essenziale che raccoglie... In queste sei partite la partita più difficoltosa è stata la vittoria in casa, streminzita con il Lecce, quella con il Verona anche se sono, però comunque uno a zero lo scadere. No, nel senso, secondo me, prima di pensare a quello che c'era dopo la sosta si devono molto concentrare sulla perdita col Cagliari. Ma molto. Però è una Juventus che sta davvero diventando specialista. Adesso ormai questa parola, questo cortomuso, lo sentiamo in tutte le salse, però il concetto è... Ha usato un aggettivo, se non è molto corretto Federico, essenziale. Cioè è una Juventus che, anche con la Fiorentina, passa in vantaggio, poi non sarà bella da vedere. Ma c'è una cartina di Tornasole, secondo me, che è la sconfitta brutta con il Sassuolo. Perché se tu guardi anche i dati, e mi riferisco a Tiziano che ama le statistiche, prima della sconfitta brutta col Sassuolo la Juventus segna molto di più, ma subisce e rischia. Dopo quella sconfitta, cambiando strategia, segna molto meno, ma non becca più un gol. E quindi sono tutti punti, ragazzi. E non soffre neanche tanto, perché con la Fiorentina, è vero, possesso palla a Fiorentina, però parate di Scesni, una, la punizione di Biragli. Proste nella testa di Bremer, lo schema della Fiorentina, alla fine. È il classico risultato della... cioè in Italia siamo molto risultatisti, cioè un tifoso, anche se non gioca bene, prendi tre punti e li porta a casa, cioè non vedo motivo di... sì, è vero, non giocherà, sarà un calcio vecchio, però alla fine, se tu vai da uno per l'asta e dici, sei contento che ha vinto 1-0 o sei contento che ha fatto 0-0 facendo 50 tiri in porta? Ti dice che ha vinto 1-0. Io, domenica sera, finita la partita con la Fiorentina, ho sentito del grande entusiasmo, poi sono andato sul forum dei tifosi della Fiorentina perché mi diletto a fare questo tipo di verifiche, perché ho detto, beh, saranno contenti, noi italiani gioca bene a calcio, ne ha scritte di tutti i colori. Luciano, forse è questa la cifra della Juve, cioè una squadra che noi non possiamo pensare che sia magari bella da vedere, dove per bello intendiamo un calcio coinvolgente, spettacolare, propositivo, forse è questa la Juve di Allegri, cioè è questa la, come dire, il disegno che ha fatto Allegri per quest'anno? Francesco, la Juve praticamente fa un gioco sull'altezza, quindi non potrà mai dare spettacolo. Voi avete visto la prima volta che si è provato a Sassuolo a cambiare, perché tutti dicevano dopo la vittoria con la Lazio, dicevano Allegri è cambiato, adesso fa pure la partita, infatti si è provato a fare la partita a Sassuolo e ne abbiamo presi quattro, ovviamente due anche per errori di singoli, per cui il problema bisogna anche accentrarlo in questo, però in questo momento, secondo me c'è una maturazione di un ambiente che praticamente prima non era così e vi dico il perché. Voi guardate che adesso sta giocando uno dei migliori, che è uno dei migliori, Rucani, che negli anni passati praticamente Rucani veniva dato per uno da panchina, adesso invece è uno dei migliori e Rucani ha sostituito e ha fatto il titolare e direi che si è comportato non bene di più, il che vuol significare che c'è stata una maturazione dell'ambiente che ha creato autostima nell'ambiente stesso e nei giocatori che vanno in campo con la rabbia e la forza andretica per vincere, questa è la Juventus di ora. Certamente non è piaciuta la Juventus che ha giocato con la Fiorentina, ma anche in altre occasioni, però il gioco di Allegri è quello di stare praticamente ad aspettare l'avversario e ripartire. Se alla gente non piace questo gioco andasse al cinema, ma cosa vi devo dire? La sostanza qual è? Non vedranno mai una Juventus scintillata, a parte che vedranno una Juventus forse rinforzata con qualche giocatore a gennaio, su questo non c'è dubbio, ma è sempre nel limite del possibile perché la Juventus non potrà comprare i supercampioni. Con questo sistema se la Juventus sta attaccata alle squadre di testa che devono fare alla fine due partite a settimana mentre la Juventus si prepara alla partita di settimana in settimana per l'avversario che incontra potrebbe venire anche qualche sorpresa. Certamente, se mi domandate tra l'Inter e la Juventus chi è più forte, vi dico l'Inter. Però l'Inter magari ha più impegni importanti se va avanti in Coppa di campioni specialmente, per cui c'è da vedere. Io ritengo che il gioco di Allegri non sia una cosa eccezionale da vedere, però ritengo anche che porti dei punti. E quando voi vedete, e qualcuno ha detto, mi sembra Federico, che nonostante il pressing che sembrava forte pressi, l'assalto della Fiorentina alla porta della Juventus, che Scendi non ha fatto nessuna parata, direi che è quello che poi conta. Attenzione, vuol dire che la Juventus ha una solidità praticamente difensiva, diversa da, molto meglio di altre. E tenete conto che voi fate un conto, togliete i quattro gol presi in mordo maldestro a Reggio Emilia con il Sassuolo e poi ditemi, visto che ora la Juve ha una difesa pari a quella dell'Inter, che sono i più forti del campionato, ditemi voi, se non avesse subito quel gol, per una facilità, diventerebbe un quattro giusto. Se togliete i quattro di Sassuolo, ne ha subito due gol in dieci partite, in casa, uno col Bologna e uno con l'altro. Sì, 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 assolutamente indicativo. Se la Juve non piace, perché guardate che sono soprattutto i tifosi dell'Inter, della Juve, che dicono vogliamo giocare bene, vincere e giocare bene. Certe volte vale più la pena vincere, perché poi i tifosi alla fine, quando vincono, fanno le feste e invece quando non vincono e giocano bene, praticamente rimangono male. Questo è il problema della Juve, combatte addirittura con la volontà dei propri tifosi che vorrebbero vedere i colpi di tacco. La Juve non li farà mai. Tra l'altro i tifosi alla Juve, che si erano un po' annoiati di vincere gli Scudetti, quel famoso discorso, provare a prendere Sarri per giocare un buon calcio. Dopo però, quando non li vinci, ti rendi conto di cosa vuol dire quando festeggiano gli altri. È quello, è sempre quello il discorso. Massimo, è una Juve da Scudetto, secondo te, questa? No, assolutamente. Ma ha detto bene il direttore, sposo in tutto e per tutto quello che ha detto il direttore Pocanzi. Da aggiungere c'è che l'organico è clamorasamente inferiore rispetto a quello dell'Inter, secondo me. Forse dove si può fare un paragone è un po' davanti, perché ci sono i nomi davanti, ma ci sono solo i nomi. Perché Chiese e Vlau invece si sono visti all'inizio e poi non si sono più visti più o meno. Io credo che, come ha detto il direttore, l'ambiente ha cominciato a stringersi attorno a questa forza di gruppo, dopo soprattutto le vicissitudini Pogba e Fagioli, che sono comunque due giocatori che a livello numerico vengono a mancare. Oggi c'è il rabbio squalificato e ti devi inventare un centrocampo contro una squadra come il Cagliari, che è in netta ripresa e che ha giocatori, secondo me, che possono diventare pericolosi. L'Uvumbu su tutti, per le caratteristiche della difesa che ha la Juve. La sua velocità, è certo. Esatto, però, come ha detto il direttore, la Juventus dovrà cercare di puntare non solo al mercato di gennaio, ma di cercare di essere attaccata alle prime perché, siamo onesti, l'obiettivo che dice Allegri è l'obiettivo reale, quello di arrivare nei primi quattro e raggiungere assolutissimamente la Champions, che porta, quello che diceva prima Riccardo e Federico, i soldi, la nuova Champions, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, è un obiettivo che va al di là di quello che può essere il campionato, la lotta per il campionato, eccetera, eccetera. Allora, avete fatto riferimento al mercato di gennaio. Ecco, c'è già un nome per il mercato di gennaio per la Juventus. Ve lo svegliamo tra due minuti. Dove lo va a pescare la Juve? Si sta parlando con grande insistenza di Calver Phillips, del Manchester City, giocatore inglese, centrocampista. Si dice anche che nei giorni scorsi giuntoli abbia proprio incontrato il City facendo un blitz a Londra e che di fatto, insomma, ci sia la volontà da parte del Manchester di cedere il giocatore in prestito, prestito secco, che è quello che chiede la Juventus. Resta un attimo ancora da trattare con il giocatore per lo stipendio, perché chiaramente, insomma, lo stipendio è uno stipendio importante. Giocatore che, non so onestamente se corrisponde alle caratteristiche del centrocampista che cerca la Juve, o meglio, di quello che si dice che stia cercando. Perché si era parlato di mezzala di qualità, no? Si faceva il nome di Samarzic. De Paul. Ecco, questo Phillips è un giocatore invece di intensità, è un giocatore molto fisico, di rottura più che di costruzione, di qualità. Quindi magari la Juventus ne sta cercando anche più di uno. Perfetto. Perfetto, dice tu. Perfetto. Se lo aggiunge, insomma, alla mediana della Juve... Passa più nessuno. Non passa più nessuno, sì. Quindi immaginandoci un Phillips-Rabiot, perché chiaramente i piedi buoni di Rabiot li devi avere. Phillips-Lucatelli-Rabiot, suppongo. Con Miretti primo cambio... Ma al di là delle caratteristiche, come diceva prima Massimo, io non so se la Juventus... Non mi faccio grandi illusioni su questo mercato di gennaio, però non so cosa riuscirà a raggiungere, ma di fatto, oltre alla squadra di quest'estate, sono venuti in corsa a mancare Pobba e Fagioli. Eh, certo. Cioè, quindi qualcosa devi fare, comunque. Per forza. Perché se no vuol dire che rimani con tutti quelli della next gen, eh? Cioè, già l'altro giorno Allegri si è girato, guarda la panchina, mentre credete, c'erano solo quelli della next gen. Eh, ma anche Dome, Dome, adesso... Con Cagliari pure. Adesso che manca Rabiot per squalifica, infatti... Ma infatti tu vedi, Firenze, scusami, fa tre sostituzioni, quando ormai tutti ne fanno cinque. Ma ne fa tre perché si gira dall'altra parte e vede quello che c'ha... C'è panchina, c'hai Illy, Nonge, Nicolussi Caviglia, Uisen, Hildiz. C'è la next gen. Sì, sì, no, è quello, per carità, è quello assolutamente sì. Tiziano, una Juventus che secondo te è la prima avversaria dell'Inter o è una delle avversarie dell'Inter? Marotta ha detto... Ho detto... Chi è la difesa più forte del campionato di solito vince anche in Serie A, vince lo scudetto e compagnia bella. Questo l'ha detto Marotta. Io ricordo, fra l'altro, che il Milan ha vinto uno scudetto segnando 35 gol e subendone 15. e ha vinto proprio perché aveva questa difesa che era insuperabile o quasi. Per cui, per tornare a Juventus, la Juventus che ho visto contro la Fiorentina, secondo me non ha giocato sicuramente bene, però non ha concesso nulla la Fiorentina. ha una fase difensiva solidissima che può essere uno strumento sicuramente notevole per arrivare a certi traguardi. In più, io credo che Vlaovic, Chiesa e il company siano suscettibili di progressi. Non li vedo così... Allo stato attuale hanno avuto un rendimento non esaltante, però in prospettiva potrebbero, se sfruttati secondo le loro caratteristiche, potrebbero rendere molto insidioso anche l'attacco della Juventus. Claudio, a proposito di Vlaovic, un minimo di preoccupazione per questo giocatore c'è? Sul fatto che comunque sembra un po'... Più che un minimo, un massimo di preoccupazione. Ah, ok. Non volevo esagerare, non volevo esagerare. Perché tu di solito sei sempre quello che ci riporta un po' con i piedi per terra sul discorso di Juventus. Ti riporto sempre con i piedi per terra, però siccome andiamo alla terza stagione da quest'estate guadagna 12 milioni netti del suo contratto e quest'estate è stato proposto in uno scambio, ma nessuno ha offerto i soldi che voleva la Juve. Vuol dire che questo ragazzo o fa un salto di qualità o non vale più questo... E cosa gli manca secondo te? Secondo me gli manca... Al di là dei problemi fisici che ha avuto, per carità. No, secondo me gli manca la serenità di stare dentro una partita anche quando le cose vanno male. E soprattutto il miglioramento anche tecnico, perché io anche a Firenze, quando è entrato in campo, la prima cosa che ha fatto è che ha fatto un passaggio in orizzontale, all'avversario. Cioè se vuoi essere, vale il discorso fatto prima per Leao, che è di un'altra categoria in questo momento, ma se vuoi essere un top player, non puoi essere questo. Se no fai parte della categoria buoni centrali. Non l'hai mai visto il Vlaovic di Firenze a Torino, no? Non l'hai mai visto praticamente. Ma il top player non l'hai visto anche a Firenze, se è per quello. Dicevi Bramba? Mi guardavi su Vlaovic? No, ti guardavo perché sono curioso di sentire cosa dice il direttore. Ci andiamo subito dal direttore su Vlaovic. No, no, Vlaovic è lo super... Adesso Vlaovic è venuto con la ferma intenzione di fare grandi cose. Io un giorno ho detto a questa ragazza attenzione che nella Juve è diverso che giocare nella Fiorentina, perché nella Fiorentina ti danno palloni tutti a te. Qui te li devi anche cercare. Vlaovic non è certamente l'uomo che va a cercarsi palloni. Gli aspetta e purtroppo il centro campo non serve a dovere. Attenzione, io ritornando al discorso di prima, parlando della solidità difensiva, bisogna mettere in evidenza anche un'altra cosa. che Rabiot e Mechenni vanno sull'avversario, tolgono la palla all'avversario e ripartono. Quindi aiutano anche il modulo difensivo a non fare l'uno contro uno con gli avversari. Questo è importante perché voi vi sarete accorti che nell'area di rigore della Juventus è difficile che entri l'avversario. Magari tirano da lontano. E questo è un fatto importante perché evidentemente Rabiot, che quest'anno non ha praticamente la brillantezza dell'anno passato, ma comunque è sempre uno importante, è adatto al gioco di Allegri nelle ripartenze perché contrasta l'avversario e riparte Idemi e Mechenni. E questa è la forza attuale di questa Juventus. Massimo, su Vlaovic? No, guarda, ne stavamo parlando prima con Federico e Claudio, prima prima, eh. E qui volevo sentire anche Tiziano, il direttore, Riccardo. Ma con questo Lukaku che è arrivato in Italia, che è, forse ci aveva visto bene Allegri, che voleva Lukaku invece che Vlaovic, perché poi non si è concretizzato il tutto. Eh, perché Chelsea non ha messo il conguaglio che la Juve chiedeva, se no l'operazione era fatta. Esatto, esatto. E quindi è vero che poi ci sarebbe stato l'ambiente contro, però... Ma sai, quando comincia a segnare poi... Sentiamo, sentiamo. No, io infatti ho fatto una domanda, eh. Direttore, io ho fatto una domanda. Ma quando inizia a metterla poi... Probabilmente sarebbe stato molto meglio alla luce del rendimento attuale, ma io credo che Vlaovic, praticamente nessuno poteva ipotizzare che andasse magari in retromarcia, anziché andare all'attacco. E quest'anno purtroppo non ha la zecca, perché non ha l'autostima in se stesso, per provare delle giocazioni che sostanzialmente prima provava. Questo è fuori dubbio. Il problema di Lukaku era un problema che effettivamente era venuto fuori. E probabilmente Lukaku, alla luce del rendimento scarso di Vlaovic, in questo momento poteva servire molto di più alla Juve. Su questo non c'è dubbio, anche perché la progressione di Lukaku nelle ripartenze è notevole. L'abbiamo vista praticamente anche nell'Inter che quando giocava in coppia con Lachini. Quindi il problema di fondo, praticamente è Lukaku non è potuto venire. Vai, vai, finisci pure la frase. Siamo in chiusura, ma ce la facciamo. Finisci pure, Luciano, finisci pure. No, no, ma volevo dire, Lukaku non... La Juve ci aveva provato a prenderlo Lukaku e credo che, alla luce di quello che sta succedendo, sarebbe stato molto, ma molto importante. Purtroppo la richiesta del centro non è stata quella che aspettava la Juve, che va ancora in grado. Luciano, grazie mille, buonanotte e alla prossima. A voi, arrivederci. Grazie, grazie mille.